La reazione del Napoli è vehemente, il pareggio arriva sul calcio di rigore, il fallo su silenzio ad opera di Valentini consente a Careca di portare in temporanea parità le sorti dell'incontro. Portare in temporanea parità le sorti dell'incontro. Questo allo stadere del primo tempo, ma c'è ancora un'altra munizione per Rocco.